Seconda parte dell'operazione Mare Monstrum, sequestro preventivo per due appartamenti intestati a Girolamo Fazio, ex sindaco di Trapani. Critiche al comune di Campobello per il costo di un ricovero di un gatto randaggio. Disaggi in vista venerdì per lo sciopero del trasporto aereo. L'istituto Il 2000 di Mazzara del Vallo chiede l'istituzione di un parco urbano. I commissari sordinali di Castelvetrano per necessità contingenti requisiscono i loculi liberi del cimitero comunale. Importante nomine in arrivo per il maestro di scherma, il mazzarese Gianfranco Antero. Ben ritrovati all'appuntamento con il Tg8 News. In apertura un comunicato stampa appena aggiunto in redazione con i carabinieri dei nuclei investigativi del comando provinciale di Trapani e Palermo che hanno eseguito un sequestro preventivo ai fini della confisca nei confronti dell'onorevole Girolamo Fazio, già tratto in arresto nel maggio scorso nel corso dell'operazione Mare Monstrum. Il giudice per le indagini preliminari ha ordinato il sequestro di due unità abitative che si trovano nel centro di Trapani e che sono adibite a bed and breakfast. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della locale procura della Repubblica. Il giudice, concordando con l'attività di indagini, ha analizzato la condotta di Fazio, il quale ha posto l'esercizio della propria funzione del deputato regionale al servizio di imprenditori locali. Il valore economico degli immobili, pari a circa 108 mila euro, è ritenuto l'equivalente del prezzo della corruzione erogata in favore dell'ex deputato regionale. Due uomini e una donna, tutti dello stesso nucleo familiare, sono stati condannati dal Tribunale di Trapani per tentata estorsione nei confronti di un anziano. Due uomini e una donna, tutti dello stesso nucleo familiare, sono stati condannati dal Tribunale di Trapani a due anni e un anno e cinque mesi e un anno e otto mesi di reclusione per tentata estorsione nei confronti di un anziano che ha molestato una bambina di dieci anni. Con i soldi volevano coprire quanto accaduto. L'uomo, anziché pagare, ha denunciato i fatti e ne è scaturito un processo. I tre condannati dovranno anche risarcire con mille euro l'anziano che si era costituito parte civile. Inoltre i due uomini dovranno sborsare altri mille euro per le lesioni che gli avrebbero procurato. L'anziano, oggi 82enne, sta scontando una pena detentiva definitiva di cinque anni e due mesi di reclusione. È stato riconosciuto colpevole, infatti, della violenza sessuale in danno della stessa minore. L'uomo si è sempre difeso sostenendo di non aver mai fatto nulla di male, ma alla fine dei diversi gradi di giudizio è stato condannato a una pena definitiva. Il processo che era stato instaurato dopo la denuncia dei familiari della bambina, all'epoca a dieci anni, i fatti risalirebbero all'estate del 2012, è stato definito per primo, dunque, anche se la loro denuncia era successiva a quella dell'anziano. Questi, invece, aveva presentato la propria all'indomani del tentativo di estorsione dell'aggressione che aveva subito e che era avvenuta l'11 gennaio del 2013. Da viaggiatore molesto ha presunto topo di appartamento. Si è rivelato essere questo perché lo ha tradito il kit da scasso che nascondeva nel suo zaino con grimaldelli, spadini ed estrattori vari di metallo. È stato denunciato dalla Polfer di un treno regionale veloce in arrivo da Torino a Vercelli. Il venticinquenne Castelvetranese era sprovvisto di biglietto ed è stato identificato alla banchina di sbarco. Il suo atteggiamento nervoso ha destato sospetto negli operatori che lo hanno portato in ufficio per ulteriori accertamenti e, dopo la perquisizione, hanno trovato il kit da scasso denunciando l'uomo. Rimaniamo nell'ambito della giudiziaria. Nuova udienza nel processo a carico di Nicolò Girgenti accusato in concorso con ignoti dell'omicidio del maresciallo Mirarchi. Nuova udienza lunedì scorso del processo a carico di Nicolò Girgenti che si sta celebrando in corte d'assise a Trapani. Si tratta del procedimento scaturito dalle indagini sull'omicidio del maresciallo Silvio Mirarchi, ferito a morte e incontrato a Ventrischi a Marsala il 31 maggio del 2016. Su richiesta del giudice Piero Grillo sono state ascoltate in aula alcune intercettazioni ambientali e telefoniche. In una, risalente all'8 giugno, Girgenti parla con un rappresentante di pianta e suo cliente di vecchia data, che gli chiede notizie sul luogo dell'omicidio e sulle indagini. In un'altra, lo stesso Girgenti è stato intercettato mentre afferma a momenti arrivano i carabinieri. L'imputato presente in aula ha riferito di non ricordare in quale contesto aveva pronunciato tale frase, spiegando che comunque in quel periodo erano frequenti controlli dei carabinieri in quelle zone. A seguire sono state ascoltate intercettazioni riguardanti altri soggetti e sono stati sentiti in aula l'appuntato Baglivo e il maresciallo Scafura, a proposito delle attività di indagine condotte immediatamente dopo l'omicidio. La prossima udienza è fissata per l'8 gennaio. Nell'occasione verranno sentiti i primi testi della difesa. Piovono critiche sull'amministrazione civica di Campobello di Mazzara da parte del movimento Io amo Campobello per una singolare spesa per un gatto randaggio, è stato ricoverato in una clinica veterinaria e è costato al Comune la bellezza di 2.120 euro. E quanto si legge in una determina pubblicata all'Albo Pretorio nella quale si dispone il ricovero e l'assistenza di un gatto randaggio presso il centro medico veterinario San Vito di Mazzara del Vallo con tanto di fattura. La determina è occasione di polemica politica anche perché in effetti i gatti randaggi sono tutelati da diverse norme di legge. La spesa però è anomala sotto tanti punti di vista e i consiglieri del Movimento Io amo Campobello parlano di scelte incomprensibili e il mancato coinvolgimento da parte dell'ASP nonché la non richiesta di un confronto dell'offerta e la mancanza di una convenzione per l'affidamento del servizio attraverso un avviso di gara. Il Comune di Marsala acquisterà l'ex scalomerci della ferrovia. L'acquisto riguarderà soltanto una parte dell'ex scalomerci per un'estensione di 4.000 m2 parte dei quali costeggiano la via Americo Fazio che finisce all'incrocio con la via Sebastiano Lipari. Disaggi in vista venerdì per chi ha deciso di partire perché è stato indetto uno sciopero nazionale del trasporto aereo. Saranno coinvolte le compagnie aeree all'Italia, Ryanair e Whaling nonché il personale dell'Enav, la società che gestisce il traffico aereo in Italia. Vediamo. E' stato indetto uno sciopero nazionale del trasporto aereo per venerdì 15 dicembre. Saranno coinvolte le compagnie aeree all'Italia, Ryanair e Whaling e il personale di Enav, la società che gestisce il traffico aereo in Italia. All'Italia ha diffuso un comunicato in cui spiega di aver attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, spostando buona parte dei viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili. La compagnia dice che l'80% dei passeggeri riuscirà a volare a venerdì 15 dicembre. All'Italia ha previsto un rafforzamento del proprio personale negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, ha detto di aver incrementato il numero degli addetti al call center e che impiegherà aeree più capienti. Sul sito alitalia.com è disponibile la lista completa dei voli cancellati, insieme alle informazioni dettagliate sulla modalità di riprotezione che prevedono il rimborso del biglietto o la possibilità di cambiare il proprio volo senza alcuna penale fino al 22 dicembre. All'Italia invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per volare il 15 dicembre a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, chiamando il numero verde 800-65-0055 dall'Italia o il numero 06-65-649 dall'estero, oppure contattando l'agenzia di viaggi dove ha acquistato il biglietto. Lo sciopero che coinvolge l'Italia è stato indetto dalla confederazione sindacale CUB Trasporti, che ha espresso le sue motivazioni in un comunicato. CUB accusa i commissari straordinari che gestiscono l'Italia di volere la liquidazione dell'ex compagnia di bandiera e la frammentazione dei lavoratori per colpirne i salari e peggiorarne le condizioni. Gli scioperi del personale ENAV e di Ryanair sono stati invece indetti dalla FIT CISL. Il sindacato sostiene che il sistema che Ryanair insista ad adottare non è più sostenibile e necessita di un confronto serio con chi rappresenta i lavoratori. ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ha comunicato gli orari dello sciopero. Per il comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti, lo sciopero avrà inizio alla mezzanotte del 14 dicembre fino alla mezzanotte del 15 dicembre. Per l'ENAV, dalle ore 13 alle ore 17 del 15 dicembre. Gruppo all'Italia SAI, dalla mezzanotte del 14 dicembre alla mezzanotte del 15 dicembre. Ryanair, personale navigante, dalle ore 13 alle ore 17 del 15 dicembre. Whaling, personale navigante di cabina, dalle ore 10 alle ore 14 del 15 dicembre. Sempre sul sito di ENAC potete trovare la lista dei voli garantiti durante lo sciopero. Ed ha davvero dell'incredibile il compleanno ultracentenario che è stato festeggiato ieri a Canicattì, in provincia di Agrigento, in casa Camalleri. Ha tornato dai familiari, tra cui la sorella Diega di 112 anni, la cognata di 94, ha festeggiato ieri le sue 106 primavere Fifi Camalleri, nata il 12 dicembre 1911. Le due sorelle vivono assieme nella stessa casa. Nell'ottobre dello scorso anno, Diega, che è stata a lungo insegnante, ricevette una medaglia d'oro dall'allora ministro dell'istruzione, Stefania Giannini. In quell'occasione l'interessata disse di non aver mai punito i suoi alunni, ma necessariamente solo di averli corretti. Ai festeggiamenti erano presenti i numerosi nipoti e figli, nonché persone care. Complimenti e auguri per lunga vita ancora di più. La Corte dei Conti siciliana ha bloccato l'avviso 8 che doveva destinare delle importanti somme per gli enti di formazione. Vediamo di capirne di più. Il colpo di grazia al bando che assegna 136 milioni per i corsi di formazione è arrivato. La Corte dei Conti non ha registrato i decreti di finanziamento emessi dal governo uscente. I magistrati contabili hanno mosso dei rilievi pesanti, rinviando formalmente la decisione definitiva a martedì prossimo, quando il caso passerà all'esame delle sezioni di controllo. Ma in assessorato si lavora già un piano B che prevede il ritiro del cosiddetto avviso 8 e l'avvio di una nuova procedura di finanziamento. Si ripartirebbe così da capo dopo due anni esatti di blocco dei corsi. L'assessore Roberto Lagalla è sicura che sarà fatto di tutto per tutelare il personale, salvare i corsi e coniugare l'esigenza di rapidità con la certezza del diritto. Intanto la Will alza la voce. Bisogna riqualificare il settore della formazione professionale a tutelare i lavoratori da anni senza occupazione e stipendio, ha affermato Giuseppe Reimondi, che propone due soluzioni al nuovo governo regionale. Sottoscrivendo un accordo con il Ministero del Lavoro, si potrebbero accompagnare subito all'APE social anche quei lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti oltre 2.000. Il secondo intervento riguarda invece l'aggiornamento e la riconversione del personale per eventuali altre filiere attraverso il FEG, Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione, che offre un'aiuto a chi ha perso il lavoro a causa di mutamenti strutturali del commercio. Il fondo può aiutare quelle imprese con oltre 500 esuberi e di certo il settore della formazione ne conta molti di più. Queste due misure, insieme alle attività inserite nella Visotto, che dovrebbero ripartire con assunzione all'insegna dell'assoluta trasparenza, potrebbero dare una risposta concreta alle migliaia di famiglie che da troppo tempo vivono nella disperazione. Per questo chiediamo al Neassessore Ramo Lagalla un confronto immediato. Natale alle porte proviamo a ridare una prospettiva a questi lavoratori. Anche quest'anno il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore d'Altavilla a Carti di Mazzara del Vallo, la dottoressa Grazia Maria Lisma, rinnova l'invito ai genitori degli alunni delle terze classi della scuola media a visitare i locali prima di procedere alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico. I docenti, il personale tecnico e gli alunni guideranno i visitatori alla scoperta dei numerosi laboratori tecnologici e scientifici di cui è dotato l'Istituto. Saranno illustrati gli indirizzi di specializzazione, le possibilità di sbocco professionale e di proseguimento degli studi. Le date dell'Open Day, sabato 16 dicembre dalle 16 alle 19 e 30, sabato 13 gennaio dalle 16 alle 19 e 30 ed ancora domenica 14 gennaio dalle 10 e la 13 dalle 16 alle 19 e 30, sabato 3 febbraio dalle 16 alle 19 e 30 e domenica 4 febbraio 2018 ovviamente dalle 10 e 30 alle 13 e dalle 16 alle 19 e 30. Per l'Istituto il 2000, preseduto dall'Avvocato Nicola Vella, non è un'utopia ma un progetto fattibile. Stiamo parlando del grande parco pubblico urbano a Mazzara. Vediamo. Non è utopia ma progetto fattibile e concreto il grande parco pubblico urbano a Mazzara del Vallo con piazzale tra viali alberati, piste ciclabili segnate. Sfida allo stock dell'abbandono e degrado di ettari di terreno di proprietà comunale nella periferia nord della città. Superficie vastissima tra via Rosario Ballatore, San Pio da Pietralcina e 7 giugno 1981. Si incunia e racchiude impianti sportivi, imponenti edifici moderni, distruzione superiore, industriale e commerciale e Mazzara II. Progetto di parco pubblico dovuto alle creatività e ingegno di due giovani universitari di scienze sociali dell'Istituto di ricerca il 2000 di Mazzara, collaborati da un architetto ambientalista. L'area del progetto è piccola parte della grande foresta che si affacciava sulla città murata e sul mare, dono del re Normanni al vescovo di Mazzara. Il passato, spiega il 2000, non si cancella e spesso ritorna. Pronto il progetto di massima del parco urbano con l'eccellenza spettacolare dell'anfiteatro all'aperto, di sedili degradanti dall'alto picco del timpone maranzano. Spetta al comune di Mazzara dare il placet, predisporre progetto esecutivo vincolante del parco urbano, suddiviso in lotti, con indicazione di piantumazione di alberi diversi dalle regioni italiane e paesi dal mondo. Il finanziamento per la costruzione della prossima programmazione delle opere pubbliche di 10 e più milioni di euro comunitari spettanti a Mazzara dal consorzio sovracomunale di cui Marsala è capofila. Soluzione alternativa di costruzione nell'ottica del 2000 è invocare e spingere la partecipazione del mondo produttivo e commerciale mazzarese, grandi e piccole aziende per la costruzione e manutenzione di lotti del parco pubblico. Potrebbero poi battezzarli con il loro brand di impresa o con nomi fantasiosi. Dono di forte coscienza civica, in una città disillusa e che si va rimpicciolendo, necessario e indispensabile creare un sistema, modello di nuove abitudini socioculturali, per evitare che la periferia degradata imprigioni e soffochi lo sviluppo e il cambiamento della città, per ridurre soprattutto le distanze del vivere dei cittadini tra centro urbano e periferia, e per far capire alla città dove andare per avere crescita e civiltà. Questo uno dei grandi temi dell'Istituto Il 2000 di Mazzara, preseduto dall'Avvocato Nicolò Vella, attento sempre ai mutamenti ed esigenze sociali e che di recente sta puntando il proprio impegno per la trasformazione, valorizzazione e sviluppo delle periferie di Mazzara, città proiettata verso la bellezza territoriale e paesaggistica. Nell'ottica del 2000, l'innovazione della periferia e sogno in realtà per dare qualità di vita al futuro delle nuove generazioni. Si darà domani mattina, a partire dalle 9.30, all'aeroporto di Birgi, il convegno Gli Stati Generali dell'Edilizia, organizzato dalla Filca CISL di Palermo e Trapani. Nel corso della manifestazione sarà illustrato lo stato delle infrastrutture e del settore delle costruzioni, sia in termini risorse sia di occupati. Saranno delineate anche le prospettive per il futuro del territorio trapanese. Oggi Santa Lucia, Santa molto amata in tutta Italia, per le vicende e la storia che conoscete un po' tutti, arriva una bella notizia dalla parrocchia di Santa Lucia di Castelvetrano. Nei giorni scorsi avevamo parlato dello strano furto con ignoti che avevano portato via una ventina di pastorelli del presepe che stavano realizzando i ragazzi degli amici del Colibri. Nella foto vediamo proprio il presepe vuoto, era rimasto soltanto il bambino Gesù e Don Meli, il parroco di Santa Lucia. Lo stesso Don Meli ha fatto sapere che ieri, in maniera anonima, sono state fatte ritrovare le statuette. Don Meli ha voluto ringraziare tutti coloro che con Solerzia hanno voluto rendersi presente per l'addobbo del presepe e adesso, grazie al ritorno delle statuette, potrà essere completato. Ringrazio ancora di cuore, dice Don Meli, tutti coloro che si sono lasciati coinvolgere. Un altro miracolo, diciamo così, di Santa Lucia nel suo giorno di festa. Sarà assicurato fino alla fine dell'anno scolastico il servizio di assistenza per i 162 alunni sordi, ciechi o con gravi disabilità psicofisiche, che frequentano le 22 sedi centrali e le rispettive soccorsali delle scuole superiori della provincia di Trapani. L'ex provincia regionale ha infatti impegnato la somma di 628.670 euro a favore della cooperativa Azione Sociale, che potrà così proseguire ed espletare il servizio di ripresa delle attività didattiche. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di un dipinto, quello di Donna Franca Florio, che presto tornerà a Palermo. Il dipinto di Donna Franca Florio tornerà presto a Palermo e potrà in alcune occasioni essere esposto al pubblico. Dopo l'annuncio dato la scorsa settimana dal magazine Il Gatto Pardo dell'acquisto del quadro da parte di Maride, Nibbele e Berlingeri, i nuovi proprietari hanno confermato al sindaco Lelucorlando che l'opera tornerà a Palermo nel corso del 2018. Ne sono grato, afferma il sindaco Lelucorlando, per questo atto di amore e sensibilità per la nostra città. Avere permesso che un'opera così importante per la storia di Palermo potesse restare nella sua città è un atto di grande generosità. Ancora più bello sarà poterlo rendere visibili ai più, proprio nell'anno in cui Palermo sarà capitale della cultura italiana. Quella del ritratto di Donna Franca Florio è una storia travagliata, come appunto racconta Il Gatto Pardo, quando nel 1924 Boldini lo completò. Finalmente, dopo più di vent'anni dalla prima pennellata, in realtà la parabola discendente dei Florio si era già compiuta. L'impero economico era al tracollo. La famiglia, che all'apice del suo fulgore aveva commissionato il dipinto nel 1903, era stato esposto al Biennale di Venezia, non era più in condizioni di comprarlo. Boldini quindi lo vendette nel 1927 al barone Rothschild, che lo portò con sé in America. Riapparve nel 1995 in vendita da Christis, poi riemersi dieci anni dopo, quando tornò all'hotel Villa Egea, comprato per 800.000 euro da Francesco Bellavista Caltagirone. La leggenda vuole che sia stato Ignazio Florio geloso a imporre al pittore di rimettere mano al ritratto considerato troppo sé, allungando il vestito e coprendo le spalle. In realtà la prima versione era molto più castigata. Donna Franca indossava un abito nero a maniche lunghe impreciosito da ricami dorati e Boldini successivamente la svestì, adattando l'abbigliamento alla moda degli anni venti e aggiungendo una sedia. Lei, Franca, florica tutta la vita. Quando Palermo era una città internazionale, ne è ancora la memoria. E quando lei poteva muoversi fra Palermo e Parigi e portare la sensibilità e il gusto della Sicilia verso i luoghi del nord Europa e viceversa l'eleganza di Parigi a Palermo. La commissione straordinaria del comune di Castelvetrano ha emanato un'ordinanza contingibile e urgente in riferimento alla situazione di eccezionale e di urgenza gravità che determina la necessità di dover tumulare diverse salme che sono attualmente ancora ospitate presso la chiesetta. In sostanza, a causa di questa mancanza dei posti, l'amministrazione ha requisito temporaneamente alcuni loculi cimiteriali non occupati ma assegnati ai privati nelle colombaie all'interno del cimitero comunale. Una situazione eccezionale che sarà ovviamente ripristinata nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. In occasione delle festività natalizie, l'Associazione Giardini d'Arte invita tutti i bambini e ragazzi di Mezzola del Vallo a partecipare al corteo di Pinocchio che avrà luogo giorno 26 dicembre alle 17 con partenza da Piazza Matteotti fino a Piazza Santa Veneranna. Tutti saranno distribuiti palloncini e caramelle. Le adesioni potranno essere date all'Associazione Giardini d'Arte oppure presso la sede della Proloco in via 20 Settembre. E in corso di allestimento la mostra di Gico, le grida silenzioso che sarà inaugurata sabato 16 dicembre alle 18 nella Galleria d'Arte contemporanea Santo Vassallo all'interno del complesso monumentale Filippo Corridoni. Gico, nelle sue opere, scrive all'onorevole Cristaldi, racconta la vita degli altri integrandola con la sofferenza di chi vorrebbe fare qualcosa ma non ha i mezzi per giungere a un risultato concreto. La mostra sarà visitabile su tutti i giorni da sabato 16 dicembre a domenica 28 gennaio 2018. Gico, all'anagrafe Giacomo Avenuti, è una pittrice messinese già conosciuta per le sue opere in ambito nazionale ed internazionale. Regali di Natale, a giorni bisognerà cominciare a pensare, ma vediamo qual è la classifica dei regali di Natale più richieste secondo l'Unione dei consumatori. L'Unione dei consumatori ha condotto uno studio sulle spese di Natale 2017, stimando la top 10 delle vendite natalizie, non in base a sondaggi ma elaborando i dati Istat sulle vendite al dettaglio degli anni passati. Al primo posto, per il prossimo Natale, i giocattoli inclusi, gli articoli sportivi, al secondo gioielli e orologi e al terzo i profumi e prodotti per la cura della persona. Seguono in quarta posizione i libri, intendendo anche oggetti di cartoleria, libri giornali e riviste, smartphone e computer, nonché dotazioni per l'informatica, la telefonia e le telecomunicazioni. L'abbigliamento è soltanto al settimo posto, quindi i geni di casalinghi, poi le calzature e articoli in pelle da viaggio. Ancora fotoottica, pellicole, compact disc, cassette audio-video e strumenti musicali. E in decima ed ultima posizione elettrodomestici, radio, televisori e registratori. Lo studio analizza l'aumento delle vendite che si registra a dicembre rispetto a novembre, stilando la classifica dei prodotti che segnano il maggiore incremento di spesa, non in euro in valore assoluto, ma in termini relativi rispetto alle vendite che si registrano normalmente negli altri mesi. I giochi vincitori della classifica a dicembre registrano un rialzo delle vendite del 70,7% rispetto a quelle di novembre. Gioielli ed orologi, che evidentemente in pochi acquistano durante l'anno, sotto Natale, risalgono del 67,6% i profumi del 63%. Gli alimentari sono solo in undicesima posizione, più 28%, come nel 2016. La voce include sia il pranzo di Natale, sia i regali a base di cibo, come i prodotti di pasticceria e i vari dolciumi. Rispetto alle spese natalizie 2016, quest'anno si segna la risalita delle calzature che passano dall'ultima posizione all'ottava, con un incremento record delle vendite dell'8%, mentre scendono in fondo alla classifica gli elettrodomestici, radio, televisori e registratori. Unica voce a segnare un ribasso, meno 5,5%. La nostra non è la classifica dei regali più graditi, ma di quelli che vengono normalmente fatti, afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale dei Consumatori. Non sappiamo, cioè, se ricevere il classico profumo dopo barba piuttosto che un libro, inaspettatamente al quarto posto, sia poi apprezzato da chi lo riceve. Domenica 17 dicembre, alle 17.30, presso l'auditorium Mario Caruso di Mazzara del Vallo, si svolgerà la presentazione del libro di Marco Frattini, Vedere di Corsa e Sentirci Ancora Meno. L'evento è organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Corro per Da e si pone come obiettivo la sensibilizzazione della comunità alle problematiche sulla disabilità, in particolare nel binomio sport-disabili. L'evento è patrocinato anche dalla città di Mazzara e si tratta di un libro autobiografico di Marco Frattini, un atleta che ha trovato nella perdita dell'udito l'ennesima sfida sportiva e umana da superare. L'associazione Corro per Da nasce per volere di Giovanni Pomiglia e Graziella Quinci, genitori di Daniele. Il Da, infatti, l'associazione prende il nome proprio per questo e ispira la sua attività ai principi di solidarietà sociale e si impegna per seguire nel proprio ambito tutte le finalità volte ad assicurare la piena espressione dei disabili. Il Mazzara Calcio comunica l'avvenuto tesseramento del trentenne difensore centrale Gerry Russello di Agrigento. Russello proviene dallo Scordia dove ha collezionato 16 presenze, ha giocato in diverse squadre d'eccellenza e il neo tesserato si è aggregato alla squadra e potrà già giocare la prossima partita ad Alcamo. E sempre in ambito calcistico rimaniamo perché è stato effettuato il sorteggio per stabilire le gare di andata e ritorno della semifinale di Coppa Italia di eccellenza. Il 20 dicembre il Mazzara giocherà l'andata in trasferta al Dino Liotta di Licata, mentre il ritorno si giocherà al Dino Vaccara il 10 gennaio del 2018. Cambiamo sport. Su proposta della Federazione Italiana Scherma, il Comitato Esecutivo della Confederazione del Mediterraneo ha deliberato la nomina del maestro Gianfranco Antero a membro della Commissione Tecnica. Su proposta della Federazione Italiana Scherma, il Comitato Esecutivo della Confederazione del Mediterraneo di Scherma ha deliberato la nomina del maestro Gianfranco Antero della Mazzara Scherma a membro della Commissione Tecnica. Lo ha reso noto il Presidente della Federazione Italiana Scherma, maestro Giorgio Scarso, con lettera ufficiale subito dopo la riunione del Comitato Esecutivo della Confederazione tenutasi a Bagnolet in Francia. Caro Gianfranco, scrive il Presidente Giorgio Scarso, mi pregio informarti che il Comitato Esecutivo della Confederazione del Mediterraneo di Scherma, riunitosi a Bagnolet, ha deliberato la tua nomina a membro della Commissione Tecnica della Confederazione del Mediterraneo di Scherma per il quadriennio 2017-2020. La tua nomina, continua il Presidente, a tale prestigioso incarico premia il tuo impegno e ti accredita come punto di riferimento nel panorama della Scherma Mediterranea. Certo di averti comunicato cosa gradita, sono ad augurarti ogni successo. Sono felice e orgoglioso, ha commentato Antero, è un ruolo che rivestirò con l'entusiasmo di chi vuole mettersi al servizio dello sport e della Scherma. La Scherma mi ha dato tanto in questi anni ed è giusto e doveroso impegnarmi al massimo per onorare questo meraviglioso sport. Quale membro della Commissione Tecnica del Mediterraneo cercherò di stringere rapporti collaborativi tra i vari paesi della Confederazione. Un grosso in bocca al lupo al maestro Antero da parte di tutta la dirigenza della Mazzara Scherma, con la certezza che saprà al meglio ricoprire questo importantissimo incarico internazionale. E chiudiamo con un'ultima notizia di sport, volley. Sabato scorso presso il Palaboscarina è andata in scena la quinta giornata del campionato maschile di serie di volley, con la pallavolo Mazzara che si è imposta per 3-0 sulla hobby volley di Palermo. Al contrario di quanto è espresso fino ad ora, con gli sprint iniziali a imporre contentemente il proprio gioco, la prima fase del match è stata di studio, con i palermitani bravi a impegnare non poco i gialloblu. Il secondo parziale invece ha avuto un epilogo più netto da annoverare il debutto nel ruolo di libero di Gianluca Tumbarello, classe 2003, che ha indirizzato con precisione le sue ricezioni e le sue difese. Continua la striscia positiva dei ragazzi di Peppe e Suardo che rimangono agganciati alle prime posizioni della classifica. Era questa l'ultima notizia, nel ringraziarvi per aver preferito l'informazione di Teleotto, vi do appuntamento a domani. Grazie a tutti.